buongiorno a tutti cari amici youtubers non ho avuto voglia neanche di farmi la barba e niente volevo solo augurarvi una buona settimana buon proseguimento sul vostro canale sul mio canale vi ricordo solo la diretta mercoledì sera diretta tema meditane live e basta tutto qui ho fatto un video così semplice non me la sentivo neanche di fare la colonna sonora la sigla di apertura e di chiusura quindi niente solo da parte mia con tutto il cuore l'augurio di una buona settimana a tutti buona permanenza su youtube sul vostro e sul mio canale attenzione mancano 15 giorni alla vigilia di natale siete pronti io ancora no tanto sono sempre quello dell'ultimo minuto io va bene ciao ragazzi alla prossima cioè a mercoledì sera per la diretta tema ciao visualizzate a grazie per la visione del video visualizzate il mio canale iscrivetevi con la campanella attiva commentate e lasciate like ciao un abbraccio da questo max